Dietro la carenza dell'acqua di questo decennio ci sono i mutamenti climatici e la scarsità di precipitazioni a causa del surriscaldamento del pianeta. Nella giornata mondiale dell'acqua prevista il 22 marzo, la SASI organizza un convegno per studiare e analizzare il problema della scarsità idrica. Nel 2020 e nel 2021 abbiamo avuto forti problematiche, speriamo che le temperature attualmente sul monte, all'altezza di 2400-2500 metri, c'è una bella coperta di neve. L'augurio è che nonostante in questo periodo stiamo razionando, sono interessati una trentina di comuni per una totalità di 30.000 utenze che a turno non percepiscono l'acqua, specialmente nelle ore notturne. Fra un totale di acqua da pozzi e di sorgente mancano 250 litri al secondo per il consumo, un problema non solo locale ma nazionale. Dai primi di gennaio per questo è stata operata una riduzione verso le utenze SASI nelle ore notturne per ottimizzare i flussi idrici. E la speranza è che la neve caduta negli scorsi giorni aiuterà probabilmente il flusso idrico di questa estate. SASI ha inteso organizzare questo evento nella giornata mondiale dell'acqua per invitare degli esperti, dei ricercatori di lunga, di decennale esperienza sugli argomenti dei cambiamenti climatici e dell'idrogeologia proprio per fornire al territorio una base di discussione asettica e scientificamente valida basata su dati scientifici, su ricerche aggiornate. Come sono le acque gestite dalla SASI? Le acque gestite dalla SASI sono buone, quelle che vengono distribuite al consumo sono buone, rispettano sicuramente i limiti di legge. SASI ha poi la fortuna, il privilegio di gestire le acque del verde, la sorgente del verde che sono oligominerali e microbiologicamente pure alla fonte per cui sono praticamente imbottigliabili.